Lei dice che Renzi e l'Europa non capiscono la gravità della situazione economica del nostro paese. Perché? Sì, c'è un'impotenza quasi imbarazzante sia da parte dell'Unione Europea sia da parte del nostro governo di fronte a dei problemi che sono drammatici come ad esempio il tasso di disoccupazione. Oggi abbiamo toccato un nuovo record a 13,2%. In Italia non si era mai visto da decenni un tasso così alto con una disoccupazione giovanile superiore al 44%. Di fronte a questo le manovre sono dell'acqua fresca. Oltretutto ci continuiamo a impuntare sul vincolo di bilancio del 3% in un periodo in cui la crescita per l'Italia è sotto l'1%. Siamo in deflazione e dunque un termine del 3% del rapporto debito-pilo non ha alcun senso, non ha alcun significato. Praticamente siamo inermi di fronte alle evenienze e aspettiamo che arrivi il disastro senza fare nulla di particolare o nulla di radicale come sarebbe invece necessario.